Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della nuova collezione natalizia di Wicon che si chiama Noti Kitty ed è una collezione dedicata al lato praticamente felino nascosto in ogni Wicon Lovers, quindi alla gattina che è in ogni donna e propone un make up sensuale, intrigante, dai colori saturi e scriventi per un effetto wow assicurato, quindi per un trucco da Catwoman come Cat W che è l'immaginaria eroina testimonial della collezione. Con i prodotti della collezione natalizia di Wicon possiamo realizzare dei trucchi d'effetto ideali per la sera, strong e super sexy per celebrare ogni mezzanotte come fosse l'inizio di un nuovo fantastico anno, questo dice Wicon. Il nero che è il colore della notte è il colore proprio protagonista, la nuance protagonista del packaging che è proprio ad effetto notte, infatti abbiamo questi cartoncini esterni, sono uguali per tutti i prodotti quindi senza mostrarvi ogni 5 minuti, questi cartoncini come vedete in nero lucido, impreziositi da praticamente stelle, argento e bianchi fiocchi di neve. Al centro abbiamo il nome quindi del prodotto in argento sempre come il logo di Wicon e dettaglio molto carino, sulla parte iniziale del testo vedete ci sono queste orecchie da gatto, mentre la parte finale, la lettera finale termina con questo effetto che invece richiama la coda del gatto, quindi davvero un effetto, un particolare molto molto grazioso. Si tratta di una collezione molto ampia e variegata, ci sono in collezione che io non ho preso, innanzitutto diversi prodotti per la base viso, c'è un primer illuminante uniformante, un fondotinta in mousse in vasetto, un correttore fluido e a lunga tenuta, poi ci sono dei blush opachi con un packaging simile benefit, sono 4 e quindi con il pennello praticamente incluso, c'è un illuminante champagne sempre con lo stesso packaging, quindi con il pennello incluso e poi per gli occhi c'è una mascara volumizzante, degli eyeliner in penna, in nero e bianco, dei pennarelli per le sopracciglia con 3 punte per riempire le sopracciglia in modo naturale, quindi ottenendo l'effetto microblading. Non ho preso quello che è il prodotto di punta sicuramente della collezione che è la palette Total Look, una grande palette insomma a forma di agenda, sembra grande, poi non lo so, dal vivo, comunque una paletta a forma di agenda che contiene una cipria, una terra, due blush, due illuminanti e 12 ombretti dal finish opaco. Sembra molto bella però 35 euro, insomma senza vederla dal vivo, senza vedere neanche uno swatch, non mi sembrava il caso di acquistarla. Per le labbra invece troviamo due matitoni dal finish olografico, quattro rossetti dal finish metallizzato, quattro rossetti cremosi dal finish luminoso e conclude poi la collezione una pochette in tessuto glitterato. Per quanto riguarda invece le idee regalo, ci sono trovate un kit di pennelli, un kit con mascara e eyeliner e un kit con mascara e matita nera, a mio avviso comunque nulla di sfizioso, insomma nulla di particolare. I prezzi sono un po' altini, però la collezione, la limited edition natalizia diciamo che ci può stare. Anche per questo comunque io non ho acquistato tanto della collezione, vedrete soltanto cinque pezzi, per questo e anche perché io non ho Wicono nelle vicinanze quindi acquisto online e sappiamo che i colori sul sito di Wicono non sono molto attendibili quindi cerco sempre di contenermi, insomma di evitare acquisti azzardati e per questo per esempio che non acquisto mai prodotti per la base viso perché sbaglierei sicuramente i colori. Procediamo quindi cominciamo a vedere i prodotti che ho acquistato e vorrei partire con i prodotti occhi, nello specifico con questo prodotto che è un ombretto e si chiama Dark Secret Eyeshadow che ha un costo di 10,90€. Si tratta di ombretti mono dalla particolare texture non cream to powder ma powder to cream ottenuta miscelando polveri ed oli per garantire una massima sensorialità e anche una perfetta aderenza. L'effetto metallico è il trend del momento, il trend dell'anno e quindi questi sono ombretti dal finish super metallizzato che illuminano lo sguardo. Il packaging esterno è praticamente come quello che abbiamo già visto, l'ombretto invece è questo quindi come vedete è piccolino ed esternamente è in cartoncino glitterato quindi super scintillante, molto natalizio. Il power di 12 mesi e purtroppo però non è specificata la grammatura del prodotto. L'interno invece è in cartoncino lucido come vedete e questa è la giauda. Questi ombretti di Dark Secret Eyeshadow sono disponibili in quattro nuance. Abbiamo un rosa chiaro freddo, un color oro, un rame rossastro e poi c'è quello che ho preso io che è il numero 03 e si chiama Cin Cin Champagne. Un ombretto che mi piace moltissimo sia per il nome, devo dire la verità, mi è simpatico Cin Cin Champagne ma anche per la colorazione perché è veramente splendida. Vengo subito vicino alla videocamera a mostrarvelo, il colore ed è questo. Si tratta di questo champagne pescato chiaro, caldo con sfumature ramate dal finish, quindi metallico molto luminoso ed è quello che indosso stamattina sulla mia palpebra mobile. Questo ombretto ha una texture estremamente setosa, sottile, direi che è praticamente impalpabile e praticamente la polverosità è pari a zero, quindi zero fallout in applicazione e sembra praticamente di non prelevare nulla con le dita ma poi l'ombretto è pigmentatissimo, quindi è perfettamente coprente con un singolo passaggio. Io preferisco applicarlo, utilizzarlo, applicandolo insomma con le dita. Ottengo subito un risultato pieno, intenso e una stesura omogenea. Volendo però potete utilizzare anche un pennello piatto. Questo ombretto è bellissimo, sia utilizzato da solo, su tutta la palpebra mobile, ma secondo me è anche sfruttato, applicato solo al centro della palpebra con un ombretto scuro sui lati per creare quindi un sofisticato effetto tridimensionale. Comunque è veramente splendido, non fa effetto palpebra secca, ha una texture molto sottile, rimane al suo posto per tutto il giorno. Dopo averlo provato vi dirò che mi piacerebbe provare e forse acquisterò anche l'altro colore, quel rame rossastro, però devo dire anche che questo colore è decisamente più sfruttabile, quindi diciamo che non so alla fine cosa farò, però questo è un colore che vi straconsiglio, perché è veramente bellissimo ed è molto molto valido come ombretto. Poi sempre per gli occhi, in collezione c'è, trovate, e io ho preso una Kat W Eye Pencil 7,90 euro, matita per interno ed esterno occhi, disponibile in tre colorazioni, nero, marrone e quella che ho preso io che è la 02, forse sì, o 03, comunque no, la 03 e si chiama Plum. La matita è questa, quindi abbiamo come vedete il corpo del colore della mina, corpo che è tutto in plastica, quindi comunque è una di quelle matite un po' antipatiche da temperare perché è un po' duretta, con dettagli argento, quindi testi argento e tappo nero. Il colore di questa matita è bellissimo, vado subito a sbocciarvela, è una matita bellissima, è un colore che io amo in questo periodo dell'anno perché si tratta di un colore che va proprio a mettere in risalto gli occhi verdi, tira fuori i verdi dei miei occhi e questo è il colore, è questo brugna rosato, intenso, caldo, bellissimo, medio scuro, non scurissimo, dal finish opaco. Una matita che io amo, un colore che io amo anche sfumato lungo l'arriva cigliare dell'occhio, la potete vedere stamattina, l'ho utilizzata sia nell'alimenterna che in realtà anche sopra, quindi come eyeliner. In realtà come eyeliner io di solito preferisco dei colori più scuri per dare una maggiore definizione allo sguardo, però insomma volevo mostrarvela applicata, quindi veramente una gran bella matita. Se vi piace la colorazione questa ve la consiglio perché ha una texture, una mina morbida, scorrevole, un tratto come vedete uniforme e la pigmentazione quindi è alta, ha un'ottima tenuta ed è anche semplice da sfumare, quindi davvero un'ottima matita per gli occhi. Poi visto che in collezione ci sono dei blush mono che costano 12,90€, ho preferito acquistare la Catch Me Face Palette che costa 19,90€, però è una palette che contiene quattro prodotti in polvere compatta, è disponibile in un'unica variante, i prodotti contenuti sono una cipria, un blush, un illuminante e un bronzer. Il quantitativo insomma contiene all'interno la palette 8 grammi di prodotto, il power di 12 mesi. Il packaging come vedete è praticamente come quello dell'ombretto, solo che ovviamente è più grande ed è sempre tutto nero, scintillante e glitterato. La palette è dotata di specchio interno e in questo caso come vedete sotto ogni polvere, troviamo anche stampata proprio la funzione e si tratta di polveri cotte, polveri cotte che hanno una texture estremamente sottile, un'ottima pigmentazione, una perfetta aderenza alla pelle e sono facili da sfumare. Vediamo i colori contenuti quindi in questa palette. L'unico che spolvera un pochino è l'illuminante in applicazione. Eccolo qua, andiamo a vedere, cominciamo proprio con la Gialda Highlighter, il colore è questo, vediamo uno a uno. Quindi questa è la Gialda Highlighter e si tratta di questo beige champagne chiaro, caldo, dal finish luminoso, molto setoso e pigmentato, un colore che secondo me si adatta a molte carnagioni. Diciamo che c'è qualche glitterino di troppo per i miei gusti, però siccome si tratta di un illuminante della collezione, di una collezione natalizia diciamo che ci può stare ed è quello che ho utilizzato anche stamattina e veramente è molto luminoso. è un bell'illuminante. La seconda Gialda di questa palette si chiama Definer, vado a sbocciarla, è il colore, un attimino, facciamo con calma, la Gialda quindi vi dicevo Definer e si tratta di questo bronzo, un bronzo di media intensità, eccolo qua, un bronzo medio, intenso, caldo e dal finish diciamo shimmer luminoso con evidenti riflessi dorati. Wicon ci dice che questo colore è ideale per definire, per scolpire il viso con un effetto contouring. Personalmente, per me, per le mie esigenze, per i miei gusti, questa polvere non va bene assolutamente né per il classico contouring, perché è una polvere che ha un sottotono caldo e un finish molto luminoso, però non va bene neanche come bronzo in realtà, sia per il finish troppo luminoso, questa fa effetto bronzo di riace praticamente, ma oltretutto è una polvere molto pigmentata, secondo me anche troppo pigmentata, difficile veramente da gestire come polvere viso, però si può tranquillamente sfruttare sia come blush magari in piccole dosi, che come ombretto, che è quello che ho fatto io stamattina, quindi nella piega dell'occhio, vedete, ho applicato proprio questa, la Gialda, praticamente la polvere della Gialda Definer, quindi si può utilizzare come ombretto e un bronzo, è un colore estremamente versatile e quindi alla fine la sua presenza in questa palette non mi dispiace. Andiamo alla terza Gialda, la terza Gialda è quella del blush e si tratta di un rosa, di un rosa sempre di media intensità, vado subito a sbucciarlo per bene, di questo rosa di media intensità, vi dicevo, caldo, che ha però un finish satinato, ha una satinatura fredda, dei riflessi argenti in superficie, non so se riuscite a vederli, ma fidatevi, ci sono dei riflessi freddi sull'argento, è un colore quindi per illuminare e valorizzare l'incarnato, sicuramente una bella nuanza ravvivante e un colore estremamente femminile, anche in questo caso è quello che indosso stamattina. Infine abbiamo la Gialda Fixer, che Wicon descrive come una polvere trasparente, polvere trasparente praticamente, quindi che non altera insomma il colore del make-up, dal finish leggermente satinato, è ovagizzante, è levigante, quindi anche con effetto soft focus. Questa è la cipria, cipria che personalmente trovo inutilizzabile su tutto il viso, vediamo se mette a fuoco, trovo inutilizzabile, vi dicevo, su tutto il viso, semplicemente perché ha un finish luminoso, si tratta proprio di un bianco satinato con dei glitterini sparsi, proverò magari a sfruttarla per, come dire, per, ce la posso fare, per fissare il correttore nella zona del contorno occhi, oppure come illuminante delicato sullo zigomo, stamattina l'ho utilizzata questa polvere in realtà per illuminare l'arcata sopraccigliare e devo dire che non mi dispiace perché l'effetto è naturale e delicato, però con i miei pori dilatati su tutto il viso questa polvere satinata con glitterini non è assolutamente utilizzabile, insomma, è veramente improponibile. Quindi diciamo che questa palette è diversa da come me l'aspettavo, insomma, anche un po' da come viene descritta, però non è assolutamente male, l'unica cosa, insomma, che avete presente è che per quanto mi riguarda qua dentro ci sono due illuminanti e due blush, non c'è qua dentro per me nessuna cipria e né un bronzer, quindi una terra per scaldare l'incarnato. Le polveri comunque sono di buona qualità, sono setose, sono ben pigmentate e i colori tutto sommato non mi dispiacciono, quindi questi sono i colori, vi mostro per l'ultima volta, questi di colori della Catch Me Face Palette, come vedete la pigmentazione è veramente alta di queste polveri. Poi per le labbra invece, in collezione, sempre i capelli da pazzo ultimamente, vabbè prendetemi così si stendiamo l'indiretta, ok. Per le labbra, vi dicevo, ho preso una, un rossetto, un Wild and Sweet Lip Cream, dal costo di 12,90€, si tratta di rossetti in formato stilo, dal finish vellutato demi-matte, disponibili purtroppo solo in quattro colori, abbiamo un nude chiarissimo, un rosso, un prugna scuro, un bordò scuro e poi quello che ho preso io, che è il numero 02 e si chiama Sweet Rose. Il packaging del rossetto è questo, è quindi tutto nero lucido, con dettagli argento, ha questa forma squadrata e un po' allungata, devo dire che è molto bello, elegante ed è anche solido e robusto, è un packaging davvero ben fatto, quindi è molto molto grazioso per i miei gusti, ha questa chiusura magnetica, lo stick è a sezione tonda e il PAO è di 18 mesi. Questo rossetto ha una formula veramente strepitosa, mi ha colpito tantissimo perché ha una coprenza, una pigmentazione estrema, cioè proprio coprente al 100% con una singola passata e la stesura è uniforme, insomma, è scorrevole come texture sulle labbra. Questa texture è corposa, vellutata, fondente, una texture veramente, non lo so, mi piace davvero tanto perché è coprentissima, però è molto leggera sulle labbra, molto confortevole e anche levigante, non so se lo vedete, se lo notate, comunque, praticamente fa un effetto bellissimo sulle labbra perché sembra quasi rimpolpante, quindi è veramente una texture fantastica, il finish è leggermente, proprio leggermente satinato e la tenuta è ottima. E sono dei rossetti che contengono nella formulazione, sono arricchiti con olio di mandorle dolci dalle note proprietà nutrienti ed elasticizzanti. Devo ammettere che non mi ha entusiasmato particolarmente la proposta labbra in questa collezione perché io non amo molto né i rossetti liquidi dal finish metallico e né i rossetti cremosi dal finish luminoso. E ho acquistato questo rossetto, devo dire, anche contro voglia, più per avere un pezzo, un rossetto della collezione e per realizzare un look completo. Questo perché i quattro colori proposti non sono particolari, insomma, sono dei colori, diciamo così, basic, quindi il nude chiaro, il rosso, il nude rosato e il bordeaux. Però devo dire che dopo averlo acquistato sono davvero contentissima di averlo fatto perché è proprio la formula che rende questo rossetto speciale e, anzi, mi dispiace che non ci siano delle altre colorazioni per me interessanti perché ne avrei preso volentieri degli altri. Il colore, quindi, è quello che indosso, ve lo mostro anche sbocciato. Il colore io lo trovo bellissimo ma, come vi dicevo, non ha nulla di innovativo, insomma, nulla di mai visto. È un nude rosato, però fenomenale, eccolo qua. È questo nude rosato di media intensità, spento, caldo, con un tocco di marroncino. È un nude per labbra naturali ma sensualissime. Io amo questo tipo di colore, insomma. E io l'ho abbinato con la pastello cappuccino di Neve Cosmetics, che è una delle mie matite labbra nude preferite in assoluto. Si tratta sempre di un rosa, diciamo, marroncino. Eccolo qua, caldo. Stanno davvero benissimo insieme. Quindi è la combo che mi vedete stamattina sulle labbra. E quindi, insomma, in buona sostanza, questo rossetto non lo volevo acquistare ed è poi alla fine, invece, il prodotto che mi ha colpito di più di questa collezione e che vi straconsiglio perché è veramente una coccola anche sulle labbra. Veramente stupendo. Infine, per le unghie ho acquistato un Good or Bad Nail Lacquer Smalti che hanno un costo di 3,90€, dalla texture densa e corposa e a rapida asciugatura che consentono di ottenere un risultato pieno, intenso e omogeneo con una singola passata. Devo dire che a me piacciono questi smaltini di Wycon. Sono semplici da lavorare, sono davvero estremamente pigmentati e hanno anche un bel pennello ampio e piatto che agevola la stesura. E poi con il mio top coat Essie la durata di una settimana è assicurata. In collezione troviamo tre nuance, anche in questo caso direi molto basic. Il packaging è questo, quindi la boccetta è quella di sempre, però non so se si vede, il tappo è tutto glitterato, quindi per l'occasione, proprio per la collezione natalizia. Il colore che ho preso io, vi dicevo, tre sono le tonalità proposte, quindi abbiamo un nude rosato, un rosso scuro e poi c'è questo che si chiama il numero 02 e si chiama Brick, che è questo bellissimo per i miei gusti, ve lo mostro anche sulla tip, eccolo qua, e questo, no vi stavo mostrando un altro colore, ma io sono veramente classica davvero, molto caratteristica. E questo è lo smalto, quindi questo marrone, questo marroncino medio scuro, intenso, caldo, con sfumature aranciate. Un bellissimo colore autunnale, è un colore che io amo portare anche sulle labbra e oltretutto è veramente molto attuale, quindi è un marroncino caldo, secondo me bellissimo, davvero, è un altro prodotto molto bello, molto valido in questa collezione. Che dire, quindi per concludere, non ho acquistato tanti prodotti e non l'ho vista dal vivo purtroppo, però devo dire che questa volta, anche acquistando online, sono soddisfatta delle colorazioni che ho ricevuto. L'unico prodotto che mi ha lasciato un pochino perplessa, insomma, per le ragioni già ampliamente, come dire, esposte, è la palette viso. Però di sicuro vi straconsiglio sia l'ombrettino cin cin champagne che, come si chiama, il rossetto che sto per distruggere, il rossetto numero 02 Sweet Rose. Devo dire che anche lo smalto, secondo me, merita. E spero, nel prossimo ordine, insomma, di acquistare qualche altro pezzo della collezione, magari con qualche promozione. A questo proposito vi chiedo, se l'avete vista dal vivo, fatemi sapere cosa avete preso o cosa, secondo voi, vale la pena acquistare di questa nuova collezione natalizia di Wicon. Bene, io spero di essere stata utile, vi invito a iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima!